Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con il video dedicato a Mohamed Salah, Tots, giocatore egiziano della Roma ex Chelsea e Fiorentina che ha ottenuto questa sua carta Tots grazie alla splendida stagione che ha realizzato con la maglia della Roma, ha fatto tantissimi gol, mi sembra 15, 14, tantissimi assist, ha ottenuto questa sua carta che in realtà non tutti hanno previsto. In realtà la EA ha fatto un po' un pasticcio, ha tenuto fuori dal giro diversi giocatori come Bonucci Manolas che hanno giocato decisamente ad alti livelli, inserito qualcun altro che magari nessuno si aspettava, ma di queste polemiche potremmo parlarne in altre sedi, oggi è il momento di parlare di Salah, se conviene acquistarlo, quanto è forte, se è veramente forte. Cominciamo dalla velocità e lì chiudiamo subito il discorso, è velocissimo e grazie al cavolo, 96 di accelerazione e 95 di velocità scatto. La sua caratteristica principale è che penso è il giocatore più veloce che abbia mai provato. Ho provato anche i giocatori TOTS che hanno 99 e 99 di velocità e di accelerazione, ma lui è troppo veloce, seriamente, è impossibile. Mi ha deciso alcune partite semplicemente prendendo la palla, smarcando tutti e poi l'avversario o impreda una crisi isterica e poverino, non lo posso neanche biasimare, poveraccio. Ne ha buttato steso in aria procurando un rigore o con queste serpentine creare degli spazi incredibili nei quali poi una squadra ben strutturata, anche normalissima una squadra auroraro, può inserirsi. Tutti i compagni di Salah possono inserirsi per andare a concludere. Quindi un giocatore anche molto associativo, anche se in molte clip vedrete che a volte farò il solista perché poi ti viene quando parti con questo motorino umano che è correre e tu quasi ti gasi e dici ma perché mi devo fermare? Ed è lì che l'abilità del giocatore di FIFA deve migliorare, perché tante volte continui a correre e poi arrivi davanti alla porta e sbagli perché non hai la lucidità, anche tu stesso che stai giocando, non hai la lucidità di capire se devi mettere la palla a giro sul secondo o sul primo, se devi trargli forza, se devi fare il pallonetto. Ebbene, quando imparerete a utilizzare Salah in maniera associativa allora vi dirò che è un giocatore veramente forte, per il quale vale la pena spendere almeno 140.000 crediti. Al momento sta a 200.000 crediti ma considerate che sto registrando la review il giorno dopo l'uscita dei Toads. Quindi siamo a buon punto. Continuiamo con le sue caratteristiche, mi è piaciuto molto anche il dribbling, 93 di agilità, quest'anno i giocatori con l'agilità più alta sono quelli che meglio si attestano alle qualità del gioco, 90 di equilibrio, ottimo, 93 di controllo pallo, 93 di dribbling, ricordiamo che ha anche 4 stelle skill. Per il dribbling sì, lo utilizzerete ma soprattutto in velocità. Soprattutto il dribbling, mi è venuto molto bene il dribbling esperto, diciamo il dribbling no look, non so come si chiama adesso, insomma quello che si fa con l'L1, il dribbling di movimenti di corpo perché a quella velocità gli avversari praticamente mai riescono a prenderti. L'agilità è l'altro pro impressionante, riesce a districarsi in mezzo a 3-4 avversari. Per quanto riguarda i tiri, mi è piaciuto solamente il tiro a giro, solamente il tiro a giro che va a rientrare nelle statistiche di effetto che ha un 73, veramente scarso, però i tiri a giro li fa veramente bene. Vi verrà sempre di tirare a giro perché lui ha sempre questo atteggiamento alla Robben, di rientrare sul sinistro e provare il tiro a giro sul secondo palo. Poi tutte le altre statistiche di tiro, soprattutto la finalizzazione 90, non le ho trovate così devastanti. L'88 di potenza di tiro non è così devastante, devo dire. Cioè, fai il suo, fai i suoi gol così come li faceva la versione NIF, perché quando sei così veloce, quando arrivi davanti la porta, sono due le cose, o fai l'assist bene o fai un buon tiro. Quindi tutto sommato devo dire che non ho sentito questa finalizzazione così alta, ma non è neanche un contro perché alla fine un esterno che ti fa in sei partite quattro gol, non si può per niente scartare. I passaggi? I passaggi, non so, bisognerebbe considerarli normali perché passare adesso con Salah è un po' un eufemismo, passaggi. Possiamo parlare di statistiche, ma poi sostanzialmente sì, è bravo a fare gli scambi, soprattutto il COC grazie all'86 di passaggi corti, però non è quello che vi farà l'assist perfetta. Più che altro gli assist che ho fatto, che vedrete o che avete già visto, sarà un semplice appoggio all'indietro perché è talmente veloce che arriva più di tutti e davanti a tutti e poi può decidere se tirare o mettere un passaggio indietro. Sicuramente non fa dei buoni cross, o probabilmente sicuramente, bene, ti metti in FIFA Italia, non farà dei buoni cross perché ho problemi con tutti a fare cross, ma non è che tutti abbiano questo gioco di andare sulla fascia e crossare, è veramente poche volte incontro persone che giocano così. In definitiva ragazzi, il contro di Salah qual è? Il contro qual è? L'unico è la forza fisica 68, lo stesso contro che ha la sua versione NIF. In definitiva è un giocatore che a me piace molto, devo dire. È forte. Ripeto, se scende sotto i 140, 100.000 crediti per me ne vale assolutamente la pena perché è un giocatore decisivo. Se rimane a questo prezzo di 200.000, io vi dico, ma se proprio vi piace Salah, prendete quello NIF perché tanto le caratteristiche sono quelle è comunque devastante. Non prendete la versione NIF a meno che non vogliate metterlo come COC o come seconda punta. Quindi, di conseguenza, sì, un giocatore che è veramente forte, no, non vale la pena comprarlo a questo prezzo, ma se dovesse scendere, allora sì. Noi ci vediamo presto con una nuova review dei TOTS Serie A Ligan e ci vediamo presto nei prossimi video.